Un altro dei riconfermati per la stagione 2014-2015, Roberto Nofri, centrocampista, attaccante, comunque insomma uomo che può spaziare in tutto il centro attacco della Monteparchi. Che stagione sarà in promozione? Tu è la prima volta che disputi un campionato di promozione? Sì, è la prima volta, penso che l'unica differenza comunque fra la prima e la promozione sia il fatto appunto anche di guardalini, ci si ha un po' più il tasso tecnico, ci si ha un po' più possibilità di giocare palla a terra, si vede un po' più di gioco sia da una parte che dall'altra, ci sono squadre più attrezzate quindi penso sarà un campionato difficile dove ce la giocheremo fino all'ultimo. Giocare più tecnicamente può essere un vantaggio per la Monteparchi che ha sempre fatto del bel gioco, comunque del gioco palla a terra, un'arma che ha cercato di portare in tutti i campi fin dalla seconda categoria. Sì, appunto, ormai sono due anni lì, abbiamo trovato squadre soprattutto che si sono difese davanti alla propria area di rigore e speriamo, io spero che quest'anno si aprano un po' di più perché ci saranno più spazi e offriremo un gioco più divertente al pubblico che ci seguirà, sia in trasferta. Tu ti reputi più un centrocampista o un attaccante? O un centrocampista offensivo? Eh, penso la definizione giusta, sia un centrocampista offensivo. Mi piace anche tornare a dare una mano soprattutto al terzino perché è una qualità che il pubblico apprezza molto. Campagna acquisti interessante per quest'Aguela Monteparchi. Dicevamo anche con i tuoi colleghi, molti arrivi anche da categorie superiori. Questo dà lo stimolo per poter fare veramente bene? Sì, ci sono arrivi importanti ma dobbiamo soprattutto pensare anche ai giovani che sono saliti in prima squadra perché penso sia una risorsa fondamentale per la squadra perché se troviamo quei 4-5 giocatori giovani giusti che fanno un campionato all'altezza penso che saremo molto avvantaggiati. Non ci sente? Cosa ha detto mister Picchioni alla fine della vittoria del campionato e prima di iniziare questa nuova avventura? No, vabbè, quando ha cominciato lui era dicembre, eravamo sereni, comunque eravamo secondi e ci ha portato comunque alla vittoria e è stata una bella esperienza, eravamo tutti felici, sono anni fantastici insomma. Quindi la speranza di tornare nuovamente a esultare va bene anche passando dai play-off oppure un'Aguela Monteparchi deve puntare sempre in alto? No, dobbiamo puntare a vincere, dobbiamo comunque a vincere arrivando primi, dobbiamo considerare comunque che siamo una neopromossa e questo comunque farà la differenza.